Toratemi! Carista a tronco. La tigare è pronto. Medicatore è pronto. Azzacco portiglieria! Coordinate Charlie 5, eliminare! Charlie 5, ricevuto! Aprire il fuoco! Autore dei sottotitoli. Autore dei sottotitoli. Autore dei sottotitoli. Autore dei sottotitoli. Colpito! Versaglio colpito! Sampo attiglieriato! Allora! Sono stati colpiti! Attacco da stiglieria! Coordinate! Bravo! Dai! E eliminare! Bravo! Dai! Ritimuto! Aspire il fuoco! Fuoco! Il motore è in gioco! Il motore è in gioco! No! Il motore è in gioco! Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 To battle. Grazie a tutti. 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 To battle. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. ... ... a tutti.